Io credo che il mio compito in questo momento è mettere insieme gli ingredienti e fare in modo che tutti quelli che contribuiscono al tema Electrolux si abbiano un punto di riferimento in cui condividere le idee e trasmettere le idee. Questo è l'incontro di oggi. Ci sono persone in città che hanno manifestato già da tempo le loro posizioni, hanno dato delle indicazioni di politica industriale, hanno parlato di relazioni industriali. Visto questo incontro che ahimè è stato posticipato tra il ministro e l'Electrolux a Roma, noi pensiamo che un pezzo di carta in cui siano scritte delle richieste e siano precisati meglio i contorni della trattativa faccia sia un aiuto a tutti, ai nostri regionali perché sappiamo che ruolo loro rappresenteranno ma anche alle persone che a livello di Roma queste cose le dovranno affrontare. Non si può parlare solo di costo del lavoro ma si deve parlare anche di resto altrimenti tra un anno saremo qua di nuovo a ridiscutere. C'è una parte di politica industriale accennata perché noi non siamo responsabili del loro investimento che punta più al built-in per esempio cioè alle apparecature d'incasso e che sarà descritta da Mario Grillo che era un ex dirigente Electrolux che si occupava proprio di prodotto e poi c'è una parte finale più sindacale che sta a dire che se riusciamo di nuovo ad avere modalità sindacali come avevamo in passato questo ci dà una forza innovativa in più. Ecco questi sono i tre elementi che verranno discussi, illustrati per quelle che sono le nostre capacità.